Incredibile, ma vero. Ragazzi, l'Atalanta è stata fermata dai giallo-blu dell'Ellas Verona. Gara terminata 1-1 nei 90 minuti. Non ho visto la partita, quindi non so neanche dirvi com'è andata. Per le occasioni comunque sia che ci sono state durante i 90 minuti, ho solo visto il risultato e questo è un bene per l'Inter. È un bene primario per l'Inter. Ragazzi, domani abbiamo la possibilità di andare a distaccare sempre di più l'Atalanta. Comunque, finalmente è successo. L'Atalanta viene fermata dall'Ellas Verona. Grazie, Ellis. E, che dire, non è la prima volta che quest'anno il Verona fa male alle squadre grandi. ha vinto con la Juve, ha pareggiato con l'Inter, e ha pareggiato stasera con l'Atalanta. Grande Verona. Finalmente. Ragazzi, io vi lascio, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare like, a commentare e a condividere. E come sempre, solo forza l'Inter. Dagli.